Si percepisce un certo nervosismo sui mercati finanziari. Notizie di pochi giorni fa che una delle più grandi banchi internazionali sarebbe sull'orlo della bancarotta. Ma siete curiosi di sapere quale sia questa banca? E soprattutto quali potrebbero essere le possibili conseguenze? Come sempre di tutto questo ne parleremo dopo la sigla. Buongiorno o buonasera cari investitori ed eccoci qua con un nostro nuovo video. Le sorprese in questo 2022 non sono ancora finite. Infatti non solo guerre, recessioni, inflazione alle stelle. Addirittura adesso una delle banche principali di tutto il mondo potrebbe essere dichiarata fallita. La banca in questione si chiama Credit Suisse e per chi non lo sapesse si tratta di una società dei servizi finanziari nata a Zurigo e pensate che gestisce 1,282 miliardi di franchi svizzeri. Inoltre questa banca non sarebbe da sola in quanto recentemente i giornali hanno associato anche il nome di Deutsche Bank che sarebbe anche questa banca sull'orlo del fallimento. Tutta questa preoccupazione è nata dal fatto che il numero uno della banca svizzera ha recentemente dichiarato che la situazione sembra essere alquanto critica anche se successivamente ha tranquillizzato la situazione affermando che la banca gode di una certa liquidità e soprattutto di una buona solvibilità patrimoniale. Però sicuramente quando una società sente il bisogno di rassicurare i propri clienti di solito non è un bel segnale. Alcune voci affermano che i dirigenti di Credit Suisse abbiano passato il fine settimana precedente a rassicurare i propri clienti e i propri investitori in merito al capitale e alla liquidità della società nonché a ribadire quelli che sono i piani di ristrutturazione che sono in corso. Da inizio anno il valore delle azioni della banca si sono più che dimezzati e inoltre nelle ultime settimane hanno addirittura perso il 23% del proprio valore. Inoltre recentemente sono schizzate alle stelle quelli che sono i Credit Default Swap, CDS. Ma che cosa sono i CDS? Perché sono così importanti? Si tratta sostanzialmente di un contratto con la quale il detentore del credito si impegna a pagare nei confronti di una controparte una somma periodica e la controparte proprio perché riceve questa somma di denaro si assume la responsabilità di un eventuale default da parte appunto dell'attività per la quale è stato remunerato. La somma periodica che il creditore paga naturalmente è commisurata al rischio e alla probabilità di insolvenza del soggetto terzo del debitore. Quindi naturalmente cosa succede? Che quando questi prezzi schizzano alle stelle vuol dire che la società in questione sta diventando molto più rischiosa e inoltre le parole affermate in precedenza dal proprio dirigente non hanno fatto di certo che rassicurare la situazione. Tuttavia questi movimenti al rialzo possono essere anche causati da effetti speculativi oltre che all'aumento del rischio. Alcuni analisti hanno notato come il price to book value che paragona il prezzo di un'azione della società con i valori contabili di questa sia pari a 0,22 uno dei valori più bassi in Europa. Nei giorni scorsi la banca ha fatto sapere di stare valutando la cessione di qualche attività. Inoltre non ha aiutato di certo la politica da parte della Svizzera che ha deciso appunto di abbandonare quella che è la sua politica di neutralità. fattore che avrebbe provocato così un'uscita di capitali da parte delle banche del paese. Anche la suddetta banca sembra aver sofferto molto in questo trimestre. Infatti ha subito una perdita pari a 1,6 miliardi di franchi svizzeri che paragonati invece all'anno precedente che invece erano 273 milioni. A quasi tutto si può risolvere soprattutto grazie alle banche centrali. In questo caso appunto la banca centrale svizzera. È doveroso però sottolineare che in mancanza di aiuti esterni il rischio più grande che può affrontare una banca è proprio quello che viene definito il rischio di liquidità. Come dicono gli analisti liquidity killed fast ovvero la liquidità uccide molto velocemente. Analizzando la situazione della banca notiamo come questa presenta 160 miliardi di cassa e 40 miliardi di capitale ma a sua volta presenta un elevato indebitamento ovvero un'elevata leva. La leva sono i soldi che sostanzialmente ha preso in prestito da parte di investitori e questa somma ammonta a 900 miliardi. Qualora i finanziatori dovessero iniziare a chiedere maggiori garanzie si creerebbe un forte circolo virtuoso. Pochi giorni fa è apparsa una notizia con la quale affermava che la banca sta cercando nuovi investitori proprio per cercare una possibile ricapitalizzazione da parte della banca o che addirittura sarebbe intenzionata a vendere la propria attività a un fondo di investimento degli Stati Uniti. Anche se l'istituto svizzero ha smentito entrambe le due notizie. Ma cosa sta facendo intanto la banca svizzera per cercare di scongiurare questa situazione? Lunedì 26 settembre Credit Suisse ha affermato che si è riunita con i propri dirigenti e il consiglio di amministrazione e pare che stiano barando un nuovo piano per cercare appunto di risollevare la situazione. La banca sta attualmente attuando una serie di decisioni strategiche come la dismissione di attività o dei licenziamenti. Secondo alcuni analisti la banca avrebbe bisogno di 4 miliardi di capitale per cercare di risollevare la propria situazione anche dopo aver venduto una serie di attività finanziarie. Quindi possiamo capire che la situazione è alquanto delicata. Ma arriviamo alla domanda che interessa di più a voi investitori. Credit Suisse fallirà da qua ai prossimi mesi? Quali potrebbero essere le possibili conseguenze di questo fallimento? Beh, quello che possiamo dire è che sicuramente la capitalizzazione di mercato si è ridotta notevolmente arrivando ad attestarsi a 10,5 miliardi di franchi svizzeri. Basta pensare soltanto che a marzo del 2021 la capitalizzazione di mercato era pari a 30,5 miliardi di franchi svizzeri. Ebbene, nonostante questa situazione di difficoltà siamo ancora lontani secondo la detta di molti analisti di un possibile fallimento. In quanto questo deriva anche dal sell-off azionario che stanno vivendo praticamente la maggior parte di tutte le aziende. Quindi, nonostante il crollo del titolo e l'elevato prezzo dei CDS l'ipotesi di una possibile bancarotta da parte della società finanziaria sembra un evento poco probabile. E quindi quali sono le possibili soluzioni? Quali sono i possibili scenari? Beh, seconda detta di molti analisti la banca farebbe parte di quella categoria che viene definita troppo grande per fallire e quindi è molto più probabile che o venga salvata da parte della banca centrale svizzera o altrimenti sia oggetto di acquisizione da parte di un altro soggetto. Recentemente Citigroup ha affermato che acquistare azione di Credit Suisse in questo momento fa parte degli investitori definiti più coraggiosi tutto questo nel tentativo di schernire la banca svizzera. Infatti gli analisti di Citigroup affermano di prestare molta attenzione perché è molto probabile che si verifichi quello che è il rischio di esecuzione. Il rischio di esecuzione per chi non lo sapesse è il rischio che il nostro ordine di acquisto o ordine di vendita non venga effettuato al prezzo desiderato. All'interno degli analisti di Citigroup troviamo che solamente 4 consigliano di acquistare il titolo mentre invece 15 decidono di detenerlo quindi di attuare una politica di hold 9 consigliano appunto di shortarlo cioè di vendere azioni Credit Suisse. Perfetto cari investitori siamo giunti alla fine anche di questo video mi raccomando fateci sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra opinione come vedete la situazione di questa banca svizzera e se vi piacciono i nostri contenuti mi raccomando cliccate il tasto like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina mentre noi invece ci vediamo al prossimo video ciao ciao